Musica Torna alla mostra d'oltremare dall'11 al 13 aprile la sesta edizione di EnergyMed, la fiera sulle fonti rinnovabili e l'efficienza energetica nel Mediterraneo, organizzata da Anea con il contributo di comune, provincia e regione. Appuntamento consolidato nel sud Italia e non solo, la mostra dedicata all'energia pulita si articola in tre aree espositive, edilizia efficiente, riciclo e mobilità sostenibile, ma nel padiglione 4 della mostra d'oltremare ci saranno anche workshop e convegni sui temi della green economy. Ci sono tantissime novità, noi abbiamo avuto fino ad almeno 15.000 pre-registrazioni, aspettiamo almeno 20.000 visitatori da tutto il centro sud Italia, perché ormai la manifestazione è baricentrica in tutto il centro sud e nel Mediterraneo, che verranno ad informarsi e aggiornarsi grazie ai 10.000 metri quadrati di esposizione, più 200 imprese, 25 workshop, quindi tutto quello che può servire per avere opportunità di business e per aggiornarsi sulle novità del settore. Le iniziative del Salone EnergyMed non si rivolgono soltanto agli operatori del settore, ampio spazio è riservato infatti anche ai cittadini, che attraverso 10 punti informativi potranno approfondire le normative vigenti in tema di energie rinnovabili. Dalle caldaie ad alta efficienza, dall'illuminazione a LED, dall'isolamento termico, quindi tutto ciò che può essere risparmio energetico nell'edilizia, nelle case e nelle industrie. Tra le novità della sesta edizione è anche la possibilità di prenotare veicoli a zero emissioni per raggiungere la mostra, accedendo liberamente a ZTL ed isole pedonali. Da 2014 tutti i finanziamenti europei si indirizzeranno su sostenibilità e innovazione tecnologica e sulle smart city. Su questo noi siamo molto avanti, ci saranno anche momenti importanti sulle smart city, sulle città intelligenti per fare in modo che alla ordinarietà e ai problemi che vivono le città in momento di tagli si possa anche guardare al futuro e disegnare le città dei prossimi vent'anni.